Serra, rinvenimento ossa nei pressi del cimitero, assolto l'ex priore Salvatore Zaffino. Il Tribunale di Vibo Valencia ha assolto l'ex priore della confraternita dell'assunta in cielo Spinetto Salvatore Vincenzo Zaffino, difeso dall'avvocato Francesco Tassone del foro di Vibo Valencia dalle accuse di smaltimento illecito dei rifiuti cimiteriali. Le contestazioni mosse dalla Procura della Repubblica di Vibo Valencia erano relative ai fatti risalenti all'aprile 2019, quando i carabinieri forestali di Serra San Bruno, durante un controllo effettuato nei pressi dell'area cimiteriale, avevano rinvenuto uno stoccaggio non autorizzato di rifiuti speciali. La sentenza emessa dal Tribunale di Vibo Valencia pone fine a una complessa vicenda, che fece scatenare discussioni e critiche sull'ex priore Zaffino. Sin da subito, infatti, testò non poco scalpore nella comunità serrese, poiché a seguito dell'impegnimento dei rifiuti speciali venivano repertati dei resti ossei che, secondo le ipotesi mosse dagli inquirenti, avrebbero potuto essere di provenienza umana. Solo grazie al lavoro svolto del RIS di Messina è stato possibile chiarire che i resti ossei erano di natura animale e non umana. Accolta, pertanto, all'esito dell'attività istruttoria, la tesi della difesa, che ha sempre sostenuto le stranità del proprio assistito rispetto alle accuse.